20, 21, 22, luglio 2012, torna il grande basket 3 contro 3 a Trieste. Hai voglia di misurarti sul cemento? Partecipa anche tu al Basket Street Battle 2012. 48 squadre pronte a darsi battaglia al centro sportivo primo maggio in strada di Guardiella 7, nelle categorie senior maschile, femminile, giovanile e amatori. Iscriviti subito al miglior torneo di 3 contro 3 dell'estate triestina sul sito www.basketstreetbattle.com Ampio parcheggio, divertimento e ricchi chioschi enogastronomici per festeggiare alla fine delle partite. Basket Street Battle 2012. Partecipa alla sfida.